Anche a Licata è stato possibile firmare per dare un contributo alla mobilitazione promossa da Libere e dal gruppo Abele che hanno dato vita alla giornata nazionale della dignità e del reddito. A Licata, come si ricorderà, nei mesi scorsi l'amministrazione ha aderito alla campagna. Ad occuparsi della raccolta firme, sabato pomeriggio dalle ore 15 e 30 alle 20, è stata l'associazione a testa alta che per l'occasione ha aperto le porte della propria sede, invitando tutta la cittadinanza a partecipare. In corso Garibaldi 115 è stato possibile ricevere informazioni sulla campagna e firmare la petizione. È stata anche l'occasione per riconoscere le altre iniziative promosse dall'associazione. Oltre 70.000 cittadini hanno già firmato la petizione di Libere del gruppo Abele per chiedere una buona legge sul reddito minimo di cittadinanza. Adesso la mobilitazione del web si è spostata nelle piazze. Sabato, come detto, la raccolta firme ha toccato ben 200 piazze in tutta Italia. 10 milioni di italiani vivono in condizione di povertà relativa e 6 milioni in condizione di povertà assoluta, le diseguaglianze sono cresciute a dismisura e diventate insopportabili. Più la povertà aumenta, più le diseguaglianze si ampliano, più le mafie si rafforzano, si legge nel sito della campagna sul reddito.